Buongiorno ragazzi, oggi siamo riusciti a svegliarci questo veramente, sono le 12 e stiamo già in gira La prima attrazione che oggi abbiamo deciso di visitare è l'orologio astronomico che si trova qui alle mie spalle e ci troviamo a tempo in tempo per lo sfoccare dell'ora L'orologio astronomico è una delle attrazioni principali della città e risale al periodo medievale Il meccanismo è composto da tre parti Il quadrante astronomico dove oltre all'ora sono rappresentate le posizioni del sole e della luna Il corteo degli apostoli che allo scoccare di ogni ora mette in movimento le figure degli apostoli e un quadrante inferiore composto da 12 medaglioni raffiguranti i mesi dell'anno L'orologio di Praga è uno dei primi costruiti durante il XIV secolo e il quadrante è la parte più antica di tutto il meccanismo Esiste anche una leggenda in cui il costruttore dell'orologio venne accecato dopo la sua realizzazione su ordine dei consiglieri della città in modo da non costruire più uno simile Per vendetta il costruttore decise di fermare l'orologio finché i consiglieri non lo implorarono di riattivarlo permettendoli poi di continuare il suo mestiere di orologiaio Per vendetta il costruttore decise di fermare l'orologio Per vendetta il costruttore decise di fermare se 2012 kita continuare il nostro costruttore decise di fermare l'orologio Per vendetta iliyuno Come parte, Emma! Ferio, right vicino Grazie Come parte, aggrius d'armi Ciao Ciao